Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Adel che ci fa sempre tirare fuori i fazzoletti con Easy on me qui su GRP, la radio del Piemonte. Bene, lasciateli lì i fazzoletti perché servono, perché quando vai in alta quota, esci, il naso incredibilmente cola, ma finalmente torna a ricolare, fatemelo dire, si riaprono gli impianti in Valsusa e in Valchisonia. A questo punto diamo il benvenuto al responsabile turismo montano Alberto Surico, pronto a raccontarci tutto per Turismo Torino e Provincia. Ciao Alberto, benvenuto su GRP. Grazie a voi, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti. Allora direi che di neve ne è scesa, quindi siamo pronti. Ma sì, ne è arrivata, in questo periodo sta facendo molto freddo, quindi ci sono tutte le condizioni, si sta producendo neve artificiale per integrare dove ce n'era bisogno e ne arriverà ancora nei prossimi giorni di naturale. Per cui le premesse sono ottime e la stagione sembra partire con i migliori auspici. Allora, basta affilare le lamine e poi andare via Latte a Bardonecchia. Tra l'altro ci sono un sacco di promozioni, di sconti, di possibilità, di acquisti online, giusto? Beh sì, come da tradizione la stagione comincia sempre con dei periodi promozionali, quindi questo periodo dall'inizio dell'apertura da domani, quindi fino ai giorni che precedono le vacanze di Natale, sono un ottimo momento per ottenere delle buonissime tariffe, sia di soggiorno che di ski pass. E poi di nuovo nel mese di gennaio dopo le vacanze di Natale. L'acquisto online sì, è un qualche cosa che ormai è disponibile dappertutto e che vista la pandemia, vista la necessità di non assembrarsi, consigliamo a tutti. Vivamente. A proposito di pandemia, diciamo che il settore scistico è uno tra i più penalizzati, che mi viene da dire, visto le chiusure complete della scorsa stagione, come in fatto di sicurezza? Come siamo? Le montagne sicuramente all'aperto, però ci sono le cabinovie, come funziona? Lo sci ricomincia domani dopo circa 20 mesi di chiusura. Sciare di per sé si fa all'aperto, per cui è una cosa non pericolosa. Certo. Le attenzioni che dobbiamo avere, direi soprattutto a livello di buonsenso, oltre che di normative vigenti, sono quelle di non assembrarci troppo. Sciare è sicuro, ma magari andare tutti a mangiare nello stesso ristorante alle 13 non è la soluzione migliore. Magari si fa uno spuntino a partire dalle 11, poi se ne fa un altro alle 15. Scusa, i migliori nutrizionisti dicono di mangiare ogni due ore, quindi portiamoci le noci in saccoccia, è giusto. E sgranocchiamo. Dopo 20 mesi di inattività anche le gambe non vanno affaticate troppo. Appunto, quindi piano piano. Chi va piano va sano e va lontano. Adesso domanda, non è che tutti vanno sulla tavola, però insomma ci sono tante attività, la montagna è bella per tutti, anche per chi non mette gli sci ai piedi, ecco. Ma sì, assolutamente. Ci sono tante attività da fare, sia per chi non scia, sia per chi invece vuole alternare allo sci altre cose. Lo sci di fondo, le passeggiate con le ciaspole, le passeggiate con i cani da slitta, oppure un... Le passeggiate basta, insomma, mangiare la polenta, ecco, che è tanto buona. Mangiare la polenta, la piscina, un po' di relax in un centro benessere. Di attività ce ne sono veramente molte e ogni località ha un po' le sue peculiarità. Per cui è anche bello scoprire, a seconda della località che si sceglie di trascorrere le proprie vacanze, le cose migliori che ha da offrire. Sono felice di ridare il bentornato a Via Latte a Bardonecchia e viva le nostre montagne. Io ringrazio Alberto Sturico, responsabile di Turismo Montano, nel consueto appuntamento del venerdì con Turismo Torino e Provincia. Grazie per essere stato nostro ospite. Grazie a voi e buona scelta a tutti. GRP 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 GRP